E' illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare che si basa sull'aver scoperto l'esistenza di una segnalazione SIS di inadmissibilità a carico della lavoratrice straniera. Se l'amministrazione basa il diniego sull'esistenza di una segnalazione SIS, deve informare lo straniero della provenienza della segnalazione stessa, di quale sia l'evento, ordine di allontanamento, decreto di espulsione o altro, che ha causato la segnalazione, così da permettere allo straniero di contestare, se possibile, la segnalazione medesima. Medendola in un altro modo si consentirebbe al sistema Schengen di derogare ai comuni principi di diritto in quanto col punto qualsiasi segnalazione di una polizia straniera, anche se priva di sostanza, potrebbe impedire allo straniero di far valere il proprio diritto di soggiorno in un altro paese dell'Unione Europea.